Musica Tanti amici miei sacerdoti, l'altro giorno ho avuto la gioia di poter predicare anche un ritiro, una giornata di ritiro a un gruppo di religiosi e tanti mi dicono abbiamo bisogno di vocazioni, tutti noi vogliamo servire la Chiesa, ma come fare per avere più frutti apostolici? E sempre mi viene alla memoria quel capitolo 15 di San Giovanni, è uno di quei lunghi discorsi di Gesù durante l'ultima cena che ricorderai molto bene, che è la parabola della vite e dei tralci. Gesù che si presenta come la vite vera, la vite autentica che il Padre ha seminato e noi siamo i tralci. E Gesù che dice voi siete i tralci, io sono la vita, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla, senza di me non potete far nulla. E' inutile il muoversi, il muoversi, il correre, il correre, il parlare, parlare se non siamo uniti a Gesù. Vuoi avere molti frutti nel tuo apostolato? Vuoi avere molti frutti nella tua missione nella Chiesa? Allora deve cercare, dobbiamo cercare tutti noi di essere più uniti a Gesù. E in particolare penso che quell'unione la troviamo in un modo specialissimo nel momento della Santa Comunione, quando riceviamo il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Lì sì che veramente siamo uniti a Gesù. È un'unione addirittura fisica. Il Signore abita nella tua anima, nel tuo corpo. Sta presente. Santa Teresa di Gesù diceva che quei dieci minuti nei quali il Signore fisicamente, le specie sacramentali sono fisicamente presenti nel nostro corpo, sono i dieci minuti più importanti della giornata. Diceva sono i minuti per negoziare con il Signore, per parlare con Lui di tutte le cose di cui abbiamo bisogno. E tra tante cose questa, di chiedergli al Signore vocazioni, frutti apostolici, anime. Allora, come diceva San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, la prima cosa è l'orazione. Dopo la mortificazione e il sacrificio per gli altri. E dopo, soltanto dopo, viene l'azione apostolica. Non possiamo vivere in un apostolato che non è preceduto da un'intensa vita di preghiera. Perché se è così, se l'apostolato non è radicato nella preghiera, nella mortificazione, allora non saremo dei buoni tralci. E se non siamo dei buoni tralci, se non siamo uniti alla vita, allora, come ha detto Gesù, senza di me non potete far nulla. Grazie a tutti.